Cari fratelli, cari sorelle, la liturgia della seconda domenica di Avento ci propone la prima pagina del Vangelo di Marco. L'Evangelista Marco sappiamo che è stato il primo ad aver scritto il Vangelo, probabilmente tra il 60 e il 70 dopo Cristo e tutto questo è avvenuto certamente dopo una lunga preparazione e predicazione apostolica orale. Il suo Vangelo inizia con una affermazione solenne, inizio del Vangelo di Gesù figlio di Dio, Gesù Cristo figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Gesù Cristo figlio di Dio è l'affermazione fondamentale che l'Evangelista vuole dimostrare nello sviluppo del suo breve Vangelo. Naturalmente solo se si riconosce che Gesù Cristo è il figlio di Dio, le sue parole, i suoi gesti, la sua vita possono diventare davvero Vangelo, la buona notizia che cambia la vita. E la conclusione poi del Vangelo di Marco aiuta e in qualche modo, devo dire, costringe il lettore a porsi l'unica domanda davvero essenziale. Ma chi è per te Gesù Cristo? Credi davvero che Gesù Cristo sia il figlio di Dio? Non è un fatto scontato neppure per i nostri credenti, per i nostri cattolici. La questione della fede è fondamentale, è inaudibile. Il cammino della fede però rimane un cammino interminabile, perché fin tanto che noi vivremo per tutta la vita, se avessimo anche la fortuna di vivere cento anni e più, dovremmo sempre chiederci ma a che punto è la nostra fede? La mia fede? La mia fede in Gesù Cristo? Bisogna ogni anno tornare all'inizio e da capo, confrontarsi con Gesù Cristo, altrimenti crediamo di essere già arrivati e invece siamo ancora fermi al punto di partenza. bisogna confrontarsi con lui. Ecco perché la fede è una relazione vivente e vitale con il Dio di Gesù Cristo. Non si può dire mai acquisita per sempre, mai scontata, mai pienamente raggiunta. Va alimentata questa fede, va custodita, va approfondita e qualche volta va anche recuperata. Ecco perché possiamo cadere noi nella tentazione che è pericolosa di pensare che questo cammino che abbiamo percorso finora sia stato inutile e per non cadere in questa tentazione allora Dio è l'unico che non è mai ricercato inutilmente. Ecco perché la pagina di oggi ci aiuta davvero. Perché Giovanni, Giovanni Battista, che viene presentato in questa prima pagina del Vangelo, è una figura importante e ci ricorda che non è il nostro potere far entrare Dio nel nostro cuore. Noi però abbiamo il dovere, abbiamo il dovere di metterci in condizioni che Dio agisca nel nostro cuore. Dobbiamo suscitare questa sette ardente di Dio che in molti casi purtroppo si è spenta perché il deserto non era presente soltanto ieri. Il deserto è anche il luogo dove la civiltà non è ancora arrivata, è il luogo del silenzio, è il luogo dell'assenza delle cose, della sicurezza. Ti manca l'acqua, ti manca la sicurezza della vita e ognuno di noi deve tornare al silenzio e alla sobrietà della vita per ascoltare la parola di Dio. E' questa una parola che, come la voce del Battista, grida nel deserto. Noi alla televisione e sui giornali leggiamo troppe parole, troppe cose superfule riempiono la nostra esistenza e queste però nascondono l'assenza della vera parola, della parola vera ed attesa che è quella di Gesù Cristo. Giovanni grida nel deserto e proclama la necessità di un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Come lo fa? Lo fa con il suo stile di vita che è fatto di silenzio, è fatto di penitenza, di sobrietà, nelle cose essenziali. Lo vediamo anche nel modo di vestire. Ecco che il suo stile di vita deve richiamare a tutti noi è un fermo invito ad un battesimo di penitenza. Ci dice come sia indispensabile confessare il nostro peccato. E allora, cari amici, questo ricordo deve portarci a fare esperienza dentro di noi, sicuri che il Signore presto o tardi arriverà ed entrerà con il suo spirito nella nostra vita. Questo è l'augurio più bello che possiamo fare all'inizio del tempo di avendo. Buona domenica a tutti!